Nel suo discorso di apertura il neopresidente di Assogestione Tommaso Corcos ha invitato la politica a far qualcosa per i peer e Padoan nel suo intervento sembra aver aperto ad un intervento su questo fronte, come lo vedete voi come operatori questa prima apertura concreta verso i peer? Credo innanzitutto che l'intervento del nuovo Presidente sia stato estremamente lucido e anche molto sensato, sono stato stupito dell'apertura da parte del Ministro anche se ascoltando poi l'insieme del discorso appare evidente che la sua implementazione di questi nuovi strumenti richiederà del tempo, sono anche stato stupito in particolare dalla frase di chiusura dove sono stati ricordati l'importanza dei bot, credo in un mercato dell'asset management in cui il rendimento rappresenta la vera sfida insieme al controllo del rischio, un riferimento ai peer da un lato e dall'altro ai bot sono dal mio punto di vista un po' controverso. E un altro tema che è un po' legato anche a tutto quello che è stato il piano programmatico di Corcos è legato un po' all'orizzonte temporale che sembra mancare agli italiani e forse sembra anche mancare nel discorso a volte della politica. Questo è vero e direi che questo riguarderà, toccherà sempre di più la nostra industria quando guardiamo l'implementazione della MIFI 2 dove viene richiesto alle società di produzione quindi l'asset management di avere un controllo maggiore dei prodotti e dei canali in cui questi prodotti sono venduti da un lato, dall'altro lato la distribuzione in Italia realizzata da grandi reti, questo implicherà che per unire queste due entità ci sarà bisogno di un dialogo più forte che spingerà sicuramente a una chiusura delle reti nel numero di gestori che utilizzeranno in futuro perché la quantità di informazione che la normativa richiede sarà molto alta, quindi il mercato inizierà ad avere chiaramente una scrematura dal mio punto di vista. E questo tocca il tema anche della Product Governance che se non erro sarà trattato da voi nel corso del Salone. Assolutamente, credo che uno dei ruoli degli asset managers come dicevo da anni è quello di essere il terzo pilastro del sistema finanziario, abbiamo sempre visto le assicurazioni, le banche ma il tempo ha dimostrato come l'asset management sia un business dedicato il cui ruolo di raccolta di risorse e di impiegare queste risorse nell'economia reale dando anche un contributo poi agli organi di controllo delle stesse aziende nell'economia reale sia un'attività estremamente importante, credo che a suggestione abbia fatto un ottimo lavoro a livello forse sopra, anzi sicuramente sopra la standard europeo.